Attenzione, attento a lui non uscire per farli Attenzione, sfida di... Allora, tu sai che con Ben Simmons, Playmaker Hai... cioè, vinci Perché ha praticamente quasi tutte le schiacciate con contatto Sia da centro, quindi sia da centro che da piccolo Quindi può posterizzare sia in corsa che da fermo Può marcare qualsiasi giocatore, Playmaker Quindi se la squadra avversaria ha Antetokounmpo O LeBron James, glielo annulli Sì Eh, però, cazzo, perdere Porzingis o Bolbol è... Sono tutti quelli della stanti Piccola guida per i primi team, per i partiti, ragazzi Eh, Lucchi, 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 Lucchi E chi usi di più? Lucchi, Lucchi Eh, sono quasi indifferenti Eh? Marchi su o marchi giù? Perché sai che... Fammi star su, dai Vabbè, mettiti i cartelli che stasso bello E in attacco mi sfredda il contropiede magari Aspetta Aggiratore, aggiratore, argento, intercettore, tenaglio, argento e... No, metti... Tenaglio e brozzo Giratore... Argento Eh... Tormentatore, argento Quanto te ne manca? Uno? No, basta Grande hero Carlo Copi dice grande hero Carlo Copi 24 Ci hai fatto perdere Cacazzo, ho fatto una gran partita, la seconda vaffanculo, dovevo fare qualche partita prima che fa quella Eh, è la prima buona È Carlitos Scr24, ho detto Ti capito, Iro, ciao con te Is Carlitos Scr24 Ah, sì, 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 so chi è Ciao, bello Aspetta che metto riscritto da un contatto La 6,98, sai? Sì Sto mettendo cartellini O io di infezione stancabile posso anche levare oreo e mettere... Cioè, levare off e mettere oreo E magari metto un cartellino e un poco, sicco, no Non c'ho nulla, poco, sicco Iro merita rispetto, Iro ce l'ha, rispetto Ho visto quanto splash ho, alfa Splash, splashi quasi quanto me Uh, quasi Eh, giupa Mi dica Mi dici se... Secondo te la buona È domani, io c'ho leader Eh, alfa, aspetta un secondo Se vi parlate solo, non vi sei toccato Allora, difenzione stancabile, c'ho off Lo... lo metterei oro per mettere altro... Ma c'hai tutti due il turbo? C'hai tutti due i turbi Sì Sì, sono spessati La metti l'oro Ok, e... su cosa lo metto? Cioè, arte del seguimento, bronze, intercettare bronze, intimidatore argento Manolesta, bronzo, tormentatore bronzo, finale off Aumenta, aumenta, manolesta Ok, argento Eman, eman, eman What? Pussy Pussy Dicevo, eh... Come dico... Come dico... Pussy A cash Edo, io c'ho leader difensivo, eh Quindi... Leval Oh, fuck Sniacmo Non uso mai Io ho leader difensivo Eh? Io non lo metto mai a leader difensivo Sennò non ho abbastanza cartellini per aiutare il difenditore Io ho un aiuto, quindi... 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 Io non vedo il problema Luki, 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 Luki No, che cazzo Eh? Comunque... È tanto una testa di mia fare No, la seconda è l'arena Cerca, cerca Sì, è uguale Oh, io Luki non lo sento Io in realtà odia l'arena Perché tutte le altre... Ma è uguale Ci porta bene la seconda in casa, in arena Eh, avevo perso Eh, sì, vabbè Capito Meglio che perdere di 50 Ah, l'altro giorno Meglio che perdere di 50, appunto Voglio puntualizzare ai nostri spettatori La scelta malzana di tirare comunque quando c'era un taglio di video Quoto Approfinderei questa... Clutch, clutch poco questa volta Alla in profondità su questa scelta di Francesco Glaccia di tirare Ok, brico che ho già Manu non è in live Io volevo andare a salutare Manu in live Ti immagini che se grazie all'impego mettevi quel 100% con il trassato Quanto potevo urlare? Nel nome Gioppa La cista Comunque 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 dovevi passare la tua cosa? Se fossi stato un playmaker con le palle Invece non lo sai Ma va a cacare, vai Che in un momento c'era il tiro Ma vabbè Sì, sì Giochiamo a scaricabarile, sì Bello Quello vince Francesco a mani basse Quello vince Francesco a mani basse Sì È colpa di Gioppa Perché ha schierato alfa Schierato falla e non alfa Lui inizia Aspetta, ti spiego No, ma ti spiego C'è tutta la partita che Ora lo chiamo contro il Brick and Chill Un bacino a mano Ha già detto che Ma no Ha già detto che devi stare attento Per non uscire per falli Quindi sì Vabbè Io non lo spammo mai Voglio vedere Va a vedere Primo quarto Lo dicevo anche io l'anno scorso Battoni di lavoro Belle le terze divise Oh yes Oh yes Però quel lusso Fatti il viso a quel giocatore Perché tutte le volte che entri in campo Ti vorrei picchiare È bellissimo Sette sopracciglia Perché mi sono bruciato Mi sono bruciato da piccolo Come per ieri Dai È bellissimo Adesso guarda nel litro Quanto sono belli No Mark Butt La Nemesi di Iero L'ultima volta Gli ha messo un tiro in movimento A centro campo Spezzandolo No Ha fatto 38 punti E le leggende narrano Che negli spogliatoi Lo ha biglietto a sangue Che è facendo Ma queste Sono tutte dicerie Quante sono belli Guarda cazzo sono belli Guarda cazzo sono belli Guarda cazzo sono belli Guarda cazzo Guarda cazzo Guarda cazzo Guarda cazzo Il più bello sono io Qualcosa di Elisa God De mezzo al collo E invece faccio le detenzioni Alfa la spalla più grande della testa La testa è più grande della palla Tutti te li blocco Tutti Easy green Che schifo Ma c'è vero che l'ho scritto la bestia Vai Io marco Gazza in angolo Occhio che Gazza è sketch Gazza è sketch Lo so io e Gazza siamo amici Cioè Non è vero Bravo Alfonso Sì Lucchini In effetti Non c'è la bestia Potremmo togliere Alzatore alle youp Se tu c'hai veramente Passatore alle youp Ho il taglio Micchia Funziona un botto Non farà L'uomo La mia Su questa cosa Chiama i tagli Perché sono mai Sempre in difficoltà Per nulla Siamo partita Ma io l'ho sbagliato E' una da una parte E' una dall'altra Vuoi fare del contrario E poi ormai E' da vostro spazio Ormai si è chiusa la vena Mi sa che sta lagando il play No Tira la assist No Smettiamo di dire Tirare tanti ragazzi Perché si fa cazzata Ha ragione Scusate Oggi l'abbiamo fatto Cento volte Scusa La comunità Lucchini Deve andare a tapire qua La palla Però Vai te Una volta Non ti ascolta Quando andrà lì Lo perde Non so Cosa Ricorda Il taglio Il Me l'aspettavo Ti giuro Pop di chi Ed ora Solo E' una rinporta Ciao Mirko Come va Occhio taglio Attenzione Lucchi impara anche troppo bene come gioca hero Partendo dalla difesa Non ho capito Ciò Valle Forse Lucchi Ah giusto che senti Io il taglio E non trovo Anche la palla Vuoi che ti taglio Se volete Taglio Ragazzi Tagliate Tagliate Di Lucchi Ah beh Tengo io mano Dai Vai Vai Sali Bravix Angolo Angolo Reverse Fa sempre Reverse Eh Non è Andare A rimbalzo Ah Non andare A rimbalzo Ricordatevi Il pop Ragazzi Cosa Grazie Ovviamente Due secondi Dalla fine Palla a me Come al solito Bravo Piano Piano Dettaglio Vai Taglia Che non Prendi Ragazzi Arriva Nel ritardo Buono Che Culla Questa Fuori Posizione Assassino Volevo dartela Da tre Ma non Si è andato Da tre Grazie Nella connessione Del palco Ho visto La gun Fra C'è decidi Ti Era Stoppata L'ho Vista Denti Francesco Prendi una cazzo Di decisione Per favore Mi ero sicuro Di quel Che volessi Fare Mi dimentico Sempre Che tiri Mi dimentico Dimmi Che tiri Dimmi Che tiri E ti dirò Chi sei Otto pari No dimmi Che sei libero Dai Iniziamo a giocare Ciao Altaglio a fronte Volando C'è un sacco Di cose E lui Torribile Grazie Non è Molto sex Come Da un partito Che sei lì Solo E non Mi dici Il cazzo E non ti dico Niente Mi fa pop Visti Guardarlo No No È vero È stavo già urlando Al face cash Lo stavo già urlando Tra l'altro Ok all'angolo di là È lasciato apposto Solo Cazzo spammo Questo Sì È buono Oh mio dio Che Rilasci Brutti Come ho fatto Cioè come si è fatto All'opera dei ribazzo È un Capisco È una secondaria Cazza 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 Sì ero buono Questi qua al parco Sono tutti green Grazie Se mi davano a caneto Divento più forti Sì Ah sì Vabbè Lo sai con cosa sto difendendo Cioè con che build Sto difendendo Vero Sì Vabbè Te lo dico dopo Che penso Buono Sì vai Frecci incontro Pisces Ottimo Ciao Joshua Bentornato Ragazzi ero un opposite E' tornato Come stai A bello del zio Manchi Joshua Un becetto per te Troppo distante È che non prendiamo un mezzo Comunque Cosa Ripetilo adesso Ripetilo Guarda questo Guarda questo Pensavo di Ma che cazzo pensavi Tu devi pensare meno E agire di più Sì Buono Bravo Troppo my team Ragazzi Funzionano Queste cose Di solito Fungono C'è i giocatori In 99 Che sanno far tutto C'è gli opali Poi Gioca con Paul George E' vero Cambio fra suona Uuuu Me la aspetta Ah no non sono io qua Scusalo Bellissimo il rumore dei soldi Dopo la tripla Comunque Lo voglio No merda Ce l'abbiamo No Più che altro vuoi mettere Alfa is cash Green E vuoi il rumore dei soldi Eh ma laggo Porca troia Non è il difensore Lui Brutto Eh sono spunti Triangle Alleyopli Eh li prendi Sì Così si li prenda My bad Fuori Fuori Fiori 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 Luki sai di là Sai di là Luki Eh giù Mettete Potri Salto Oh Mamma mia Attenzione Joppa is cash Joppa is nasty I'm seven Ah Pussy Nigga Nasty Occhio Luki che mi sa che la possono amano stazione E invece Buono Ah il feliceco che torna a schiacciare Is Is Oh No Bello No Non c'era bisogno Non c'era bisogno dell'aiuto Ho visto Luki in ritardo Ma in realtà l'ho visto male io Scusate E Gazze is cash Ah le fate tutte Gazze is very cash Passa sta palla Ma dio porco C'ho provato In crisi Si ma Mi ricorda un'altra partita però Non va bene Per me Non fanno per me Alfa Jeremy Is cash No Is not fucking cash Because I lagging No Non è la connessione del papi Come Si ma mi lagga Non so perché Nonostante la connessione Fitto e smetti di lagare Due tre tac Oh scusa 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 Dai che è freddo buono Ho chiato il taglio Ho chiato il taglio Oh ragazzi L'unica cosa che può fare è quella Quando sono Quando è clampato così Chi è che sta difendendo alto? Io io Eh Luki è il tempo più Il tempo più inside No No assassino Stai attento Fagli il fallo Uh si forza Tu Ma perché? Brutto Passatore alle loop Sì È difensore cecchino Non è difensore giusto Ah già è vero Scemo io Quindi non schiaccia in alley Passatore alle loop city No in realtà qualcuno lo schiaccia Ma deve essere proprio una situazione giusta Ovvero deve passartela 1 con l'impetto del playmaker Che parte in palleggio Ma lo spirito Eh penso di averla vecchia Ma mai intercettare Abbassato E se potessi far No non lo passano Francesco Porco dio Esatto porco dio Lo devo fare dalle altre difensore Vorrei fare anch'io Ma c'ho le difensioni merda C'è chi Fa culo Nooo Che fa Oh ragazzi Mi credo la rimasta Deppolento della storia Luki però decidi O la porto io O la porti tu Non è possibile Fa metà metà No Luki Non è pronto L'onedì è pronto L'onedì è pronto Torna il pacchetto Tempo due settimane Tempo due settimane Stiso si dimenticano persino come si chiamano Luki sta attento Non lasciare il tuo Lascia il mio piuttosto Va Fa che mi è bravo Alfonso Uh ho fatto blocco illegale Si sta lì Luki bravo Alfa game di sketch Alfa game di sketch Porca troia Eh no 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 Meno male Non l'ho preso Porca di quella zoccola Yes Bravissimo Vedo Come mi arrivano passaggi di tocco Senza staff Finti Hai visto che ero betta No 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 Me l'hai tolta Mi hai tolto la rubata Stronzo Vai Lucchini X X Eh no 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 Affiscation Alfa game Alfa game Alfa game Alfa game Oh my godness This nigga is crazy Veduta in Alfonso Dai Francesco ero già in contropiede Nostra Perché non l'hai preso Ero già lanciato Questo era un auto alle yup Schiacciato in rovesciata Comunque Manu Se ci stai ascoltando No No perché sta giocando Sta giocando Sono alzano Chissà magari C'è la nostra stream Di acceso Mamma Quanto hanno paura di me Hai visto il mio pop In due minuti seguito Pazzesco che timore hanno Gli avversari di me Hai la gravity assurda Mia Mia Nostra Nostra Anzate merde Troppo Ti vorrò se non me la passi Ti ti picchio Il mio era fuori dal campo Upgamer che passaggio Che giocatore Mamma mia Without sunclassico Era crea crea inventari So la devo passare Quando No Cazzo Fla Piro Madonna Quando Te la devo passare Hero Hai Quando hai detto Se non me la passi Quando cazzo Tornato Si dio Vado Quanto sei rimasto indietro Ma in che situazione Vorrei capire No Prima era fuori dal campo Si vede Non stava guardando Stava guardando Il pick and roll Uscito Dal campo No No Si è proprio stronzo Non mi aveva ingrodetto Arrivo I'm open I'm open È il piccolo You have the little one Mi ha bloccato il palleggio Non so Fare il mio passaggio Ho sentito il Tic Mi freeze in maniera assurda Non capisco perché Ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai un sacco Non ce l'hai E tira Walter Witte Un tira Unica volta che Quirky me la chiamano nel libro Io mio 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 Tu mi segna Manu Perché Io non tuo fan Manu Era un'altra tripla Palle Ma un roll da solo Bastardo No era un'altra tripla Rompere il coglione Devi tirare Che cazzo Che cazzo hai lo sketch che ho fatto greenio Coglione Era un giro passaggio Io Mirko Te hai i tuoi aiuti di merda Non tira Walter Witte Lascialo lì Dei Oh La giopata Meno male Bravo Giopata Guarda Tira Dove Lucchi Taglio qua Il 12 in angolo Cazzo Ah ok Non capisco No No Stop di perdita No C'è C'è io non ci credo Guardate il rilascio C'è io ho tirato Però la palla mi è andata sulle ginocchia È giusto Era sulle ginocchia C'è 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 io non ho capito Bisognava segnare la stazione Cambia No Sono io Ma ti mette sei ore a partire il mio giocatore Salta te Salta te Edo Un peccato Salta te Io ho sentito salta te Cosa? Salta a caso Salta salta Come salta te Oh Shut the fuck up Giopata A me l'avrebbe preso Ripartire il contropiede Salta tu Salta tu Oh my goodness This fucking game Perché intendo rudy eh Che non si Che dopo non arrivino Ora che fa Stai Stai Che esce in mano Esce Sale su Perde palla Vai Niente No Volevo farti l'ally No Eh non le prendo Mi danno la da vinagolo Lascialo totalmente da solo Ah no Che Ragazzi Una cosa possono fare E mi viene ingiute Francesco Ce l'hai scelta Ma è lento Ma è lento È lento È lento È lento C'è un difensione fichino E non è che Oh Stavo niente Per farlo lì Ah no vabbè Ce la recuperiamo La teniamo Grazie Sono io ancora Buono Tu ricordi Appena ti avvicini al playmaker Io cambio Quando io sono sul playmaker Appena tu Anche sei un millimetro distante Io cambio I'll fly Eh ragazzi Sono anche un po' tanti Uno Chi è che fai cazzo sotto canestro Adesso triplo Triplo Io mi piaccio sotto canestro E anche io mi piaccio sotto canestro Ma come si arrabbia Walter White Mi cancè il pallone per terra Tu qua Sono uno Non ti vede No faccio un ti vede Eh va bene Vabbè questa spammata ci stava Stai andando dritto da lui I'm a savage Dancing pussy Nasty Fucking dunker Hero is cash Uh hero is cash Di sezione cecchino Porca troia Eh veramente Sarebbe un problema Che c'è la gioco Eh se sbagli quella Ambo Ok Giopalare Vuoi aiutare Lui no Ti vado dietro io Sempre qua sono Sempre lì sono Devo solo adesso Tranquirti Pfff Poi vi insegno eh Poi vi insegno Poi vi insegno Non c'ha il patentino per niente Questo uomo Eh esatto Ho fatto corsi per tirare Queste cose qua Lui Anni di esperienza Perché non arriva La scoperta Tutti falli Che non l'hanno fatto Prima Anni di esperienza Per imparare Il gancio Della fenice Spiegami Oh Ah prendi Che c'è asciutto Lo fenice Ho provato Cerai tu Cerai C'è asciutto Ho fatto 6 punti Ragazzi 2-1 Cazzo Ma il faccia 6 punti T'ha fatto Giocare Lui al difensore Che cazzo Stavi bloccando L'altro Il centro Mi ha fatto un mini lag? Mi ha fatto un mini lag? No, l'ho rilasciato bene stavolta I'm a savage 1 su 4 a 3, mamma mia Io è queer che bricchiamo Fa cagare Sto rilascio per il pure No sta, fa fare Ma non so floppando Che floppando? So col cerchio e mi è venuta in terra Senza fa sfondamento Secondo te lo vieni poco Sì, sì, se floppi Ma che troppo No, c'era il mio angolo Allora, poi lo devo dire anche a mano E sembra che sto floppando Mi sulle tazzo E anche io il dipendente Cioè male Cioè male Meno male Grande che è stato questa volta Deviato Bellissimo Ti prego No Oh, la passi Sì o no? Vai di là Lucca, vai di là Dove cazzo vai? No in angolo Dove devo fare il giro? Mirko devi parlare Un po' più largo Un po' più largo Prendi la tangenziale la prossima volta Eh, non c'era neanche Alfonso In angolo Mi tolì Sì, ma ci stavo arrivando Io sono lento ad arrivare Devi capire quello Quando arrivavo Mi appostavo di nuovo Infatti stavo arrivando A farti blocco Per andare dall'altra parte A dire la verità I'm coming for you No, Lucchi No, perché tu? Era pure buono Che ha briccato Ma come si? Ah, mi ha laggato Ma quanto si è Lucchi e la connessione Una storia d'amore Che dura dal 2k a 16 Esatto Ah, se mi si giocavo offline Quindi no Lascia entrare Però mi stai sul cazzo, Francesco Cioè, non difendi Però stai sulle linee di passaggio Qual è il mio lavoro? Ah, il mio cos'è che ha le mani Non dico Cosa vuol dire non difendo? No, scusate Devo chiedere poi scusare la mano No, no, ma non era Mio mi c'era il cazzo Perché io Cioè, sempre perché Mi metto un sfondamento Non mi tocca E vado a terra Non è che flocco No, tranquillo Non avevi 12 passaggi Sto annettando il gioco Ah, è d'accordo, Lucchi Sì, si è messo a me Sto provando quello di troppo 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 Perché salto Perché salto? Grazie, il sketch Tieni palla, tieni palla Se mi fa andare sopra Magari sto ritardato Grazie Grazie Fate scrivere Faccio io lo sfido Se mi fanno Oh, questo Sto ritardato Oh, mi cambio Rilascio Ok, questo per premio Non va bene Dovrei averlo fatto Adesso giochiamo in arena Sai, Francesco? Realmente Comunque diviati Scrivi a mano Che non hai flopato Sì Io gli sto scrivendo in chat Scrivi lì Chiedo scusa per Iro Ma è un handicappato Esatto Quasi più di Edo A tirare da tre Gli scrivo Io non lo sa difendere Convinto che può Prendere sfondamento Ogni azione Infatti sempre col cello Intanto in questo momento Francesco Mamma mia Sti handicappati Che continuano Per mi il cazzo In questo momento Francesco Bravo Edo che hai capito Ah ma aspetta Ho il mutuo Francesco Tagliti il mutuo Dimmi che ho detto Una cosa sensata Mi ha detto Sai che io lo farei Di default Il flop Però le ho spiegato Che ero Col cerchio Allora io adesso Mi tolgo una volta per tutto Uso Dante Exum Se non va bene Non userò mai più Dante Exum Ma metterti un 38 Ti fa schifo Appunto Se non va Dante Exum Perché con Le drinavo tutte Con Dante Exum Dalla punta Mi dà un fastidio cane Se non le ho grino stavolta Uso il 38 Per il resto della mia vita Mi sa che mi sono giocato i boost Che pazzo Ho chissato Ma non mi tengo Comunque alfa ti voglio più cash dall'angolo Eh ma sto Mi friggia Non capisco perché Di quanto ho fatto Uno su cinque Cioè Gazza ne ha messo Il 48% Il mio record era 44 48 Io sono un botto indietro Allora Vediamo solo se ho Così devo fermarmi a comprarli No Lì ho l'accordo L'ho riuscito a quit up L'occhi ma Perché stai giocando senza rilascio Tu ti gioca per due settimane con il rilascio Boh Prima ne mette Ma Tieni Tieni due settimane fisso E poi te lo togli Mettiti rilascia Capito Lucchini Con la Giappa Gang Non si fote Dunque Ma non la starriento Sembra che c'è off Ah il trucco alla fine Sapere quando spammare Il trucco alla fine Bene o male Non ti dico che so sempre Quando spammare Ma So sempre quando me la rubano Ormai è meglio Giappa Spammi quadrato Bisogna Bisogna svilupparsi Come sta facendo Manu su Twitch Mi piace un buon Manu è bravo Adesso Adesso ha tolto un attimo Ha tolto un attimo Live Per Per la cosa Per cambiare account Per fare La squadra Subito Il dito Ride A fenomeno Che sta Stimando L'altra volta Ride Switch Non controlla tutto E così Sempre la live L'attiva Si ragazzi Fatelo Giù Fallo Perché E' una cosa buona Porta un sacco Di porta Porta Ma io quando Gioca il my team Non posso Streamare Quel canale Strimi My team Se tu stream Mi vai in automatico Sul nostro Perché ti ostiamo E' sicuro Che non ci vuole La cosa No Non ho messo in automatico Lost Anche At home party Si estremo Così Automatico Vai su Sul nostro Anche Così mi offendano Per come gioco Non faremo La cosa Che si scrivono I messaggi Si scrivono Sul nostro Non sul tour No Oppure vengo No Guarda che Molte Lo sanno Quando Sono Le ospitate Dove Volte Ci Se vuoi Scrivere Un messaggio Normalmente Io vado Clicco Sull'account E' Messaggiare Sull'account E' Quindi Non Guardi Da Noi Quale Tira Beh Sì Però L'importante E' che da views Che da giro Hai capito Poi questa cosa Quella Lo stiamo facendo Noi per Iro Ma quando tu fai Quello che sta facendo Manu in realtà Fai il contrario Io sento Lutti Cioè capisci Adesso se lo fai Con Iro Non hai problemi Perché Iro Comunque ha una Pool Di view Più piccola Della tua Di solito Della nostra Che comunque È infima E invece Se tu vai Poi a fare I ride Su Se fai i ride Su qualche Altro canale Più famoso Tipo Come famano Su switch in O su feno Anche solo C'è pure Flavio In Vedere Da streaming Infatti Ma 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 Scusate Se Delivorno De Io Vado Pesciare Arrivo Su Dio Cane No Dio Cane Ma Non si Dice Di Cane Al Livorno Quindi È inutile Lo Dio Cane Porco Dio A Livorno Non Bestemmia Nessun Pochissimi Non è Vero Non è Vero Ci vivo Arrivato Arrivato Arrivò Livorno Centrale Solo Bestemmi Si sentono Ma Cazzo Dici Senti Solo Bestemmi Io Ordinisi Da Maggiore Ti Bestemmi Mi Stai Dicendo Solo Bestemmia Livorno Centrale L'altro Giorno Ho Detto Una Bestemmia Grazie A voi Che Me Le Attaccate Perché Io Non Bestemmia Prima Di Conoscere Dove El Gai Di Falla Si è Ritirato A GTA Sta Facendo I Colpi Su GTA Falla Scalzo Ma Non Era Andato In Bagno Non Ho Capito Vi Abbiamo Il Obvious Cos'è che Mi dai Cos'è che Mi dai Cos'è che mi dai Mi era stato In bagno Beauty Guardi con le zone Calde Che grino Il triplo Ma Beh Quanto Fucking Splash Si Grini qua Poi arrivi in partita Olli brick No Col 29 Non grino in arena Mi sono divertito oggi Vi dico la verità Io no A me è semplice Di un secco Le partite Quei guerra Si Non come Cioè La prima Ovviamente Con brutti Guitati Ma la seconda Non è piaciuta Io l'ho detto Che dovevo fare Le zone calde Il tuo amore Puttana Non è piaciuta La seconda Giocar di fire out È una cosa tristissima Eh vabbè Non è che È una cosa tristissima Se lo fai Contro squadre Che giocano Con una certa difesa È una cosa sensata È ovvio Ma tu mi hai chiesto Se mi piaciuto Cioè Se tutti i giorni Giocassimo così Con tutti In realtà La domanda è Ti è piaciuto giocare? No Giocar fire out Mi fa cagare No Mi è piaciuto Il livello Di intensità E come abbiamo giocato Comunque Francesco Mi presto Mi vedete La rena mortacci vostra Faccio Chilo anello O pale La volta Se mi presti 300 euro Che mi faccio Chilo anello O pale No grazie Dicevi Ma scritto Manu Fammi vedere La rena mortacci vostra 20 euro a testa 20 euro a testa E un desposito E bella Peccato che non c'è posti Dove mettere scritte Cazzo se vale Eh beh Ovvio Diventa un'arena Non c'è più un cazzo Possiamo mettere una donna Con le tette di fuori Al centro del campo però Così mi bannano l'account E altro che ne E cazzo Te ne frega Però è una donna nuda Nel centro dell'arena Che non potrò mai vedere Perché c'è un account Bannato Però io lo posso vedere Eh no Sì Nemmeno Come aus E cazzo Ne frega Io mi entro nell'arena Favo a fare due tiri Mi seguo Esco E ciao Ah ma aspetta C'è la live attiva Non posso parlare Di certe cose Qui a chi non ha più I gruppi di tele Non so più cosa usare Eh no Sì ma non glielo dire Che poi magari Ascolta qualcuno Lo denuncia Alla polizia E lo vanno arrestare Ok so cosa fare Con i miei full white Modifico L'emoticon di Manu Per 24 ore La faccio mia Voglio più emoticon Non ne posso mettere Più di tanti Alfa di emoticon Ho messo quella di falla Che in approvazione E poi ne posso mettere Ancora una E basta Davvero E basta Perché Sì perché In base Allora direi O ci sta un'alfa MVP Quella che Una delle tre L'abbiamo giocata Metto alfa Con la presentazione Della maglia Merchitalia Rail Se no c'è la mia faccia Proprio del giocatore brutto Che Iro piace Sì bellissima Va bene Va bene Poi mandami Ce l'ho sul pc Perché era quella Che usavo come immagine Di perfido di twitter Quella che ho come immagine Ah no adesso C'ho la scritta E voglio il comando MVP L'hai messo Comando MVP No Non l'ho ancora messo Devo mettere Comando All of fame Roster Metto roster Roster All of fame Sono tutte cose carine Che ci sta Twitter Youtube Serie Fala scherza Ma come si fa Da live Quei diamantini Cioè come si fa Da accumulare diamantini Devi allora Guardare live di fila Ogni 5 minuti di live Sono 10 10 full white Quindi live Io adesso mi metto A guardare la live Tolgo il volume Perché se no mi sento doppio E come faccio In basso In sinistra Vedi che c'è Simbolo redcam Ah ne ho 510 E la madonna Stiamo aspettando Che entro in arena L'altra Una l'ha ben già fatta C'è la seconda Con il telefono In basso a sinistra C'è il numero Se sei al computer Non lo so Nella live Ma aspetta Come VIP 30.000 Non sono VIP No VIP Compri Compri lo stato VIP Ma sei già VIP In teoria Non lo so Sei VIP Quirky Io nostro Non so Come faccio a capire Se sono VIP Commenta e lo vedi Dalle icone Se c'è l'iconcina E la corona No la corona è Io è VIP E No io ho un diamante E quello è VIP Quello è VIP No il VIP è la coroncina No la coroncina è E' il prime Hero pure E' vero E' vero Io sono prime E' vero Sì sì Ma cosa vuoi Ti saluta Flavio Ti saluta Flavio Mettiti Mettiti la divisione della voce Se ti sente Chi è che ti ha chiamato? Ma chi ti ha chiamato? Chi? No Non ti ho detto Vieni Vieni Ma chi è che ti ha chiamato? Nessuno ti ha chiamato? No Era una cosa generale Stupido Non ho capito Che? Cosa è successo? E infatti non si sente Nella live Sono ancora confuso Cos'è che è successo? No niente Niente No Sapriamelo Ma come si fa A avere le emoti con le mani? Devi essere VIP O comprarla con i full wide Per 24 ore E per averla per sempre? Scusami E devi essere Debi abbonarti come ha fatto Alpha Con Prime Per un mese E poi E tra l'altro Con questa cosa Dai soldi Cioè A gratis Alla spalla Il numero si copre Il numero dei tuoi full wide Si copre C'è tipo una scatola verde La click Ti da 100 full wide Ma sono tanti 500 full wide Portare A my team Come si fa? Cosa che mi fa? Portare al my team Il proprio giocatore Come si fa? Devi andare Non trovare Una merda Ti viene Di 80 Qualcosa del genere Di 80 Massimo 80 E viene Nell'edificio Del my team Devi andare Nel quartiere Ma ti viene 80 Cosa vuol dire Che non lo fanno In mensaliette? No No Rimane 80 e basta Perché la monstache Fais? Eh? Perché la monstache Fais? Eh perché Si diverte Che movimenti Sulla stessa Penso Ah quello si Fais sarebbe Bellissimo Scegliersi Se ti puoi Scegliere Movimento A my team Cioè Posso Bricare Per perdere Palla Con lo stesso Giocatore Di modale Ti copia Il giocatore Ti copia Solo che Hai un Pro 80 Eh no Ti sto dicendo Sarebbe bello Copiare Cioè Comprare Tipo i movimenti Per un giocatore Del my team Cercata Detto Allora Passo La scelta Via Cercate Quirky 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 Nunca È stato Rilater Vabbè Quando abbiamo Finito Se non Andate Tutti Affanculo Io Andrò La Modina Porta A paio D'ore Non Cagare Cazzo Ah Interestano Streamy Secco Sono I team Scrive Infatti Così Vediamo Gio Devo Rimone A Giano Ma Non c'è Voglia Non stavo 20 giorni Da solo In casa Ti mando 20 troia Al giorno Arriva il camion Da limorno Formando La polistica La polistica La polistica Arriva a fine Il cazzo Sbucciato Salve Dove stai andando Ragazzi La polistica Ma Non c'è Ma Ma Non c'è C'è Dragon Fade No Mi Vede Stare Poi Non Gioca Ma Scusa Ma Sto Strimando Ma No Io Vorrei Parlare Delle Entrate Queste Entrate Sono Troppo Sofisticate Sono Bellissime Guardi che L'avete Guarda che braccio Guarda che braccio No Questa cosa Questa posa Qui è bella Ah poi c'è l'altra Quale del balletto Che è bellissima Piano partite Di nuovo Lascia Ragazzi Che siete In streaming Opera mia Che cosa Guarda Opera mia Una Sì Solo Tu 150 partite Fa un culo E la madonna Eh Cartellani Ci devo stare su No 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 Alfa Ischè Mi rischio No Alfa Porco Dio Ho capito Che succede D'altro Ho sti Minilag Che non capisco Non sono No Minilag Ma credo che sia Vero A sto punto No no Ma io credo che Ti avrebbe rilassato Una merda Mi sembrava Stissi laggando Perché sono andato Manu Non lo so Ha dato il cambio Avrà fatto Un paio di due Il nuovo Il nuovo Vuoi Mi ricorda Sono Giante Bastardi Lo Chi Sai Lo Chi Sali Lo Ancato Porco Vada In bocca Di Vare In Baccio Vero Fuori Che cosa ha cambiato Rilascio Merda Si Ho cambiato Rilascio Tiene N1 Fuori 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 Ma quello d'altro Perché devo Fosse And one Si fate che io Pensavo fosse Fallo Sottile Tira Stavo dormendo Ho notato Sì Arca Dio Arisco Sì Come fa L'almesto Contrasto Di Cazzo Va bene Ho notato Che stavo dormendo Sleeping Lucky Fuck in the shower Perché dovrei dormire In dottor Fai Ma se Vabbè Il senso Lock giupa Tira dritto Lock Jojo Ti fa con un green ora Due green ora Bravo Ah è brutto Mickey però che merda Che sono Questa qua l'ho rilasciata male Me ne sono accorto Non ce ne siamo accorti Capri Miedo Ti copro mio fratello Dov'è che almeno Cazzo Salta Di schi Ah no Saltato Pensando di andare Verso di lui Cosa c'era Con quello Di essere anche Questo Di lui Ho capito Uno si prova Ma ero messo Si Ball Ugo Sta Con Ecco Cosa c'è che siamo un taglio io però dai raga walter white 10 avrei camp 7 fa tutti i punti lui io ve lo dico ha giocato anche qui della scorsa partita peccato non vengono noi dove è bloccata me mannaggia te non c'entra qualche piccolo deficit a rimbalzo piccolo è ma vabbè non posso essere fortissimo non ci abbiamo più falli un po male lì al fuoco e che ragione anche perché dove andava di le avevate chiuso da nessuna parte verso io salta no ci avevo passato due ore fa perché pensavo fronda senato l'ultimo dai 10 no ho fatto applicando l'affanculo è l'arena di roma bloccare tutti cancelliamo l'arena ragazzi ma l'arena fabbricare cancelliamo la non ci abbiamo proprio pressione un po' tanto tanto mamma mia proprio occhi proprio aiuticio ma non può fare 12 su 12 accanito uno sbaglio per forti è stato male ho già visto uno screen che ha recato una canita ha fatto 12 11 su 13 punto vabbè al rec ragazzo aia 8 punti in un quarto eh vabbè eh non mi si stacca il primo fazzo prima di più prima di così scendi dalle stelle guarda alfa per cascarci di nuovo al giocatore di prima si sono cascato di nuovo guarda che tagliavo l'occhio lungo occhio lungo e la madonna era la porta meno male uh ultimo? no no eh anch'io ultimo parca troppo sembrava ultimo taglia eh scusa ma dovevo meno di loro il pop ce l'ho ricordo non c'era quel passaggio con l'unicesco c'era bastardo non c'era quel passaggio giò dall'altra giò dall'altra guarda eh stai 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 tornazzo 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 lo volevo rendere come volevo fare come un mulino bianco una macchina di oca però ce l'ho i che tagli la manu ho il cartellino per gli ave ma non li puoi alzare giusto non sei regista no magari lo potevo anche alzare però alla fine c'è un play davanti in teoria li schiaccio 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 la maglia non si fan era per intratenere i nostri telespettatori telespettatori l'ho saltato eh già non sapevo che volava fallo ma non vai dirà l'u vai dirà ma non c'era il pop no 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 e nemmeno lo scarico in angolo su qua oh bat hai fatto la cosa giusta chiudere il palleggio eh volevo passata la te da vicino dai vai ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai no la perde ce l'hai ce l'hai ce l'hai ce l'hai non tira dai stadi il player bello buono oh qui non mi trovo per un cazzo oh non dormo io ed ho tranquillo come mi piace sembra di porto i blocchi in maniera diversa il coperto la bestia ho fatto la bestia no il giocatore proprio non c'è dire è vero mi appello questo scuso dai ma no ma cosa oh my god non ho capito questo sbagliato che esce grazie questo movimento lo prende se fai una cosa in un tempismo sbagliato come si fa una volta all'anno e a te te la fanno come si fa nemmeno io se lo so lo devo rifare non so non so dirti come è mia alfa alfa gamer no porco dio tanti brin porco dio 0 su 3 ma sono ridicoli siamo tornati a inizio giornata comunque quello che tira di più della nostra squadra è alfa è l'emozione è l'emozione è l'emozione è l'emozione comunque che tristezza primo quarto 18 16 mamma mia primo tempo primo tempo primo quarto che è ancora peggio scusatemi ma davvero non so cosa mi sia successo cioè come io ho sempre segnato non ho mai briccato è vita mia bravo Lucchi attento Lucchi bravo Lucchi sto per una stagione col 100% da 3 non capisco che ormai queste due partite non sono così costi vero gioco io sono uno che non bricca mai no 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 infatti cioè mi fa davvero strano eh vabbè ho capito spam 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 hanno fatto un bellissimo cambio comunque che non difendono neanche malissimo ma ragazze mio ragazze mio ragazze mio sono affezionato a gazze ha fatto un sacco di partite contro io e gazze io l'ho marcato un sacco di tipo tutte le volte che ci sono tutte le nuove gazze però cioè adesso entra io guarda che mi entra no no meno male io so quello che vogliono fare ancora prima che lo facciano tranquillo ancora prima cosa non ho apprezzato solo ancora prima cosa non ho apprezzato solo oh fuck si sta spegnendo la televisione difendi da solo france ok ci sono no 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 ma che entra edo ecco cosa ne penso fuorissimo e non l'ho tagliato fuori l2 premuto 4 guarda ha visto passare la vita davanti Francesco di nuovo con lo step back si veramente a un certo punto ho cominciato a vedere bianco e nero ancora ma porco dio è che fai troppo veloce no fai troppo lento un movimento che fai di solito non mi ricordo qual è mai ma fai troppo lento un movimento vai usa un po' lo stop hop stronzo ci sono cascate del nuovo e direi che è fuori forse potevi trovare lo stesso i caiu angolo 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 fosso piano alfa guarda ma quanto ma quanto splendiamo alfa quello è il segno siamo alle stelle di questa partita peccato che può scorre sia davvero inutile sto gioco se no sarebbe scomplito di essere davvero forte al post già nel 17 diamo quei cazzo di sei due di mette giocatore che ha francesco qua aveva no eh ma il lancio dopo un'ora un quarto non ci subito non c'è più fallare verso allora mano su nel centro e gioco 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 mi il tasto non so il tasto con le lucche che due ore che mi chiama gioco non mi c'è il tasto nostra dai gioco beh qua era per lucchi ci mancava solo che trava questa mettavo il gioco veramente giocare con la bestia ti sei dimenticato cosa cazzo è il piccolo non ho mai giocato con la bestia ah ok ma no ma perché sono abituato a non guardare nemmeno più cioè non so 1 2 mamma mia lucchi questo è quanto questo gioco mi vuole bene 5 balli ho perso il primo e adesso 1 2 con gli avversari grazie 24 punti in tre quarti oh saremo a 60 con i miei pop ma e con i miei brick saremmo vabbè in effetti si spiega questa cosa cioè stiamo in casa tutti quanti stiamo briccando c'è 0 0 su 2 0 su 4 0 su 3 1 su 3 perchè non leggi le mie? perchè non leggi le mie? 2 su 2 stai leggo solo quelle che merita perchè non te la dallo vorrei capire no si fa la si fa alfa l'abricco si alfa questo è la segno no non la segno ti spieghi 24 punti si si quello è mio 0 su 4 dai 0 su 2 lucchi 0 su 4 3 su 3 3 su 9 3 su 9 alfa il problema è quello cioè ragazzi ma dai ma Gesù sei una bestia è uguale a vedi anche un'altra cosa è il mio che ti fa vedere anche come ha fatto il blog io ho sentito così porco dio come fa metti il comando brick anche perchè ogni tanto c'è da spammarlo eh poi c'è eh ma non posso caricare l'emotico del mattoncino anche lì non ho il comando non l'emotico no mamma mia brutto passaggio ti do sono letto ma sono più veloci dà a me per andare giù su se vedi che sono accanto a te dà a me no no io sto andando su tanto per più inerzia non è che volevo fare contropiedi o qualcosa dici oddio porco vai falletto se vuoi non posso farlo solo un ultimo uomo cazzo faccio no lì lo eri secondo me c'era Lucchi eh no Lucchi era dietro di me vai di l'alfo no sei di là che stai bricambi tutto di ora brico tutto tutto scegliere un cazzo di angolo ragazzi ok io sto qua l'altro sto briccando tutto comunque anzi c'è cinque secondi ohhhh che l'abbia fatto incredibile venti per cento da tre punti ragazzi un gol incredibile risulta come se fosse la finale dei mondiali ok l'angolo walter non si non tira non tira ma che cazzo voglio dire se volevo saltare ok eh per poi perdere l'imbalzo ma ciucciamela doppio blocco fuori bravo sono l'unica persona di cui si preoccupano del tiro da tre pazzesco pazzesco no è che non si preoccupano tanto di me penso che comunque sta tirando con percettuale migliore delle mie alex doppio cerchio beh da tre per ironia stai tirando meglio tu nessun giocatore in doppia cifra vorrei far notare è venuto un ciubiccio a caso è venuto un ciubiccio a caso ok non era voluto non era voluto questa è intesa la ciuccia è ventino ora è no ma si cioè tu vai avanti per poi tornare indietro oddio ma ciucciami il cazzo mirko e taci guarda quante palle ho perso quante palle ho perso io e quante palle hai perso tu e guarda quanti pop non mi hai visto non c'è nessuno in doppia cifra sei punti ho fatto su 60 no lì c'era il gancetto rilascia il problema deciso no poi li ha dato atto quirti libero li ha dato libero l'ho rilasciato male perchè sono spaventato ma guardate con il modo che succede oh mio dio comunque stiamo raggiungendo le piccole prestazioni al tiro eh 4 su 12 cazzo lo sa che quirk è le due oddio un pop oh ma non cagate il cazzo briccate tutti quanti muore e devo passare solo lui briccate tutti quanti sto tirando col 100 per 100 da 3 tranne te tranne te tranne te tranne me oh mio dio 5 out alfa ma ce ne hai tiri perchè non tiri no no perchè era lui 5 out ce l'hai tiri alfa perchè non tiri vedi come si difende francesco comunque saldi meno volente un sacco di roll che salgono tanto si anche vedo che stai in più entrando che perchè tu non rolli è alfa please non ho più fiducia a me stesso arrivo sto perdendo cioè sono demoralizzato bellissimo young andrea move si anche young andrea move si anche young andrea si cazzo ma non c'è il pallone anche young andrea no magari si un minuto un minuto un minuto un minuto sto bevendo e arrivo caro guarda calmo arrivo edo edo ci sei o no eh cazzo ne so sto bevendo eh sto bevendo ero guai dopo passamela ci vuole un dito per tirare ho segnato una tripla ho segnato una tripla 2 su 7 mi alzo le percentuali su ibl le abbassi alla squadra però no minchia la squadra c'è ho quattro punti di media che ho fatto zero punti tre partite questa partita sono scesa a livelli comunque i scorer of the team c'è questo quattordici però i scorer of the team eh poi ho lagato per quello non ho tirato vai green bang no ho bisogno ho bisogno di un non più i scorer of the team ma perchè salto perchè sono così coglione da saltare ah le prendo a posto e gazza gazza le mette in suggestione fermo faccio lo screen no dai va fa culo potevo fare la doppia doppia madonna bestia pfff non ciò mi cazzo grazie